Ministro, una parola sul caso Caleb. C'è stata una conferenza stampa questa mattina qui alla Camera. Dalla Farnesina avete delle novità rispetto a quello che sta succedendo in Israele? Noi stiamo seguendo il caso di questo cittadino intero-palestinese, con grande attenzione, sono state le giuste viste consolari e ci avveriamo che si risolva nel modo migliore. Comunque è eseguito, assistito dalla nostra rappresentanza in Israele e con tutti i cittadini che sono ritenuti o perseguiti della giustizia di altri paesi e di tutta l'assistenza necessaria perché vengono rispettati i loro diritti e sia rispettato il diritto della difesa. Sì, lo stiamo facendo con lui. Speriamo che si risolva presto il caso. No, non abbiamo avuto segnali negativi da parte delle autorità consolari, quindi stiamo continuando a garantire lo stesso interesse che garantiamo a tutti i cittadini italiani che hanno problemi giudiziari in diverse parti del mondo. Sempre abbiamo risolto i problemi.